E allora fratelli cosa dobbiamo fare? Ecco anche qui c'è la debolezza dell'uomo, potremmo dire che le separazioni, i divorzi che comportano tanta sofferenza in una famiglia, non solo per i figli ma anche per i coniugi, ecco fa parte del peccato dell'uomo, non dobbiamo condannare, chiaramente la Chiesa non condanna, ecco ma l'ideale è quello che ci propone Gesù, l'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto. Certo abbiamo bisogno di conversione, abbiamo bisogno di un cuore rinnovato, di un cuore purificato, ecco di un cuore che sia rinsaldato dalla grazia di Dio ed è quello che noi oggi vogliamo chiedere al Signore. Ecco non condanniamo, non si condanna nessuno perché sappiamo che la vita è così complessa, le situazioni sono così difficili e talvolta non si può condannare in nome di una norma. Ecco però dobbiamo però mantenere la verità che ci ha presentato Gesù, anche se ardua, se dura per la nostra fragilità umana. Chiediamo al Signore, oggi preghiamo in modo particolare per le famiglie in difficoltà, le famiglie divise, per i figli che soffrono a causa delle divisioni dei genitori. Preghiamo perché il Signore misericordioso dia a tutti forza, coraggio e la grazia ecco della conversione. Sia lodato Gesù Cristo.